Frattarelli, 2, 3, 4 settembre, importante appuntamento a Pescara con la festa dei giovani democratici. Sì, la prima vera festa regionale dei giovani democratici, la prima festa dell'unità dell'organizzazione giovanile del Partito Democratico. Inizieremo il 2 settembre toccando il tema della Regione, un dibattito quindi da carattere regionale, insieme al Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, insieme ad altri consiglieri, assessori regionali del Partito Democratico della nostra Regione, per discutere invece alle ore 21 del referendum costituzionale, insieme a Stefania Pezzopane, insieme ad Antonio Castricone ed altri esponenti anche del No. Saranno in confronto a due voci, a più voci. Il 3 settembre invece parleremo di Europa con l'onorevole Massimo Palucci, l'eurodeputato Massimo Palucci, Elena Gentile e Luciano D'Alfonso, mentre il 4 settembre toccheremo il tema del sisma, del terremoto, quindi dell'emergenza e della solidarietà, insieme a Mattia Zunino, che è il segretario nazionale dei Giovani Democratici, Marco Rapino, segretario regionale del PD, e Stefano Albano, della segretaria nazionale dei Giovani Democratici, nonché un concittadino aquilano, e Giuditta Pini, la deputata del PD di Modena. Per concludere, il 4 settembre concluderemo al meglio la festa con il concerto dell'artista di Latina Calcutta, che ha registrato in tutto il tour estivo il sold out, quindi siamo sicuri che anche a Pescara si replicherà una grande festa.